quella che state vedendo è la zona periferica di Bintoulou la zona residenziale come potete vedere è una zona fatta di casette di billette così che è molto vasta è una zona estesa ecco qui come potete vedere ci hanno tutti la mania del SUV il pick up qualcosa lì ecco questo un po siamo andati a visitare anche queste zone qui periferiche per darvi un po l'idea del tenore di vita del posto possiamo girare adesso andiamo fino lì come potete vedere tutte casette indipendenti ecco qua siamo giunti al capolinea giriamo ecco credo vi siate fatti un po l'idea del posto vi ho fatto vedere il centro del mercato i posti più folcloristici abbiamo visto anche adesso la zona residenziale che poi vabbè continua arriva la zona residenziale arriva fino alla periferia con la foresta ma un posto grazioso ok ragazzi continuate a seguire i miei reportage di viaggio ve la do io la Malesia ci sentiamo alla prossima